Non mi autocandido, aspetto che la comunità politica del mio partito mi dica qual è la cosa giusta da fare, quali sono i ruoli, quali sono le iniziative da assumere. Naturalmente sono pienamente disponibile e comincio da oggi a raccontare quello che ho fatto, quello che farò anche nei prossimi giorni e quello che serve all'Abruzzo e agli abruzzesi. Così il presidente della Commissione Finanze e Tesoro del Senato, Luciano D'Alfonso, rispondendo alle domande dei giornalisti oggi a Pescara, si mette a disposizione del Partito Democratico in vista delle elezioni del 25 settembre dopo la caduta del governo guidato da Mario Draghi. Annuncia che presto ci sarà l'approvazione della riforma della giustizia tributaria e del processo tributario a camere sciolte nelle commissioni congiunte Finanze e Giustizia del Senato. Insieme a Luciana Cunicella, componente della giunta esecutiva centrale dell'Associazione Magistrati Tributari, ha illustrato le principali novità del disegno di legge delega, che dopo due mesi di lavori parlamentari completerà nei prossimi giorni l'iter della sua approvazione. Tre punti essenziali, i magistrati tributari a tempo pieno e non più part time, accesso alla magistratura tributaria anche ai laureati in economia, oltre che a quelli in giurisprudenza, premialità fiscale per chi ha sempre pagato le tasse. Noi abbiamo in Abruzzo, per esempio, un monte di contenzioso tra commissioni tributarie di primo grado, di secondo grado e poi tutto quello che si mobilita in Cassazione, che è pari per numero a 3.000 istanze l'anno di contenzioso tributario, per un valore di circa 10 miliardi di euro di oggetto di contenzioso. La grande riforma che noi introdurremo sarà rendere il giudice tributario autonomo e indipendente attraverso un organo di autogoverno della magistratura tributaria che disporrà crescentemente di autonomia, per esempio per quanto riguarda le attività ispettive, la formazione, le attività concorsuali e anche un minimo di dotazione economica e di risorse umane. L'altra grande questione che noi prevediamo è la previsione di incentivi per fare sì che almeno in sede di prima attuazione possano passare dalle file della magistratura ordinaria nella magistratura quella dedicata alla giustizia tributaria anche con un riconoscimento di un incentivo possibile. Aumenteremo gli anni di permanenza nell'attività magistratuale. Da 70 li faremo crescere secondo un numero sostenibile validato dai due ministeri vigilanti. Faremo in modo che nel processo tributario possa entrare funzionalmente anche la prova testimoniale, ma non come concessione actro aie dell'ordinamento, ma la prova testimoniale come strumento di garanzia per l'emersione della verità.